Ciao amici di Italia Top Games, bentornati con gli aggiornamenti di PES 2018. Oggi, giovedì 29 marzo, è arrivato l'agente Champions, come in tanti speravano ed altri avevano previsto. Intanto ci prendiamo i nostri 10.000 GP dell'altro giorno, ci sono stati problemi con i server. Andiamo subito a vedere l'agente speciale. La condizione dei giocatori non è cambiata, non ci sono variazioni, perché sapete, hanno giocatore nazionale, niente campionati, quindi non c'è stata nessuna novità. Allora, oggi abbiamo l'agente Champions e l'agente Champions Gold, eccolo qui, che dà solo giocatori oro o palle nere. Questo agente si potrà utilizzare solo una volta al giorno, per tutta la settimana, però si può utilizzare solo con le monetine d'oro, niente GP, quindi io ho 208 monete d'oro, 12.000 GP, niente da fare. Comunque qui abbiamo il top del top, 94 giocatori. Scendiamo dagli 80 e andiamo in su. Ecco qui, Hernandez che ho in squadra, Pellegrini della Roma, Dani Suarez, perché stiamo parlando delle otto squadre rimaste in Champions League, quindi ci sono la Roma e la Juve per l'Italia, e poi le altre, Barcellona, Real Madrid, eccetera, eccetera. Rugani, Rariminers, Alisson, il portiere della Roma e secondo me oramai merita più di 81, Sergi Roberto, il Ciarawi, si sale, si sale, Florenzi, e poi abbiamo Gabriel Jesus, Roberto Firmino, e poi si sale Bernardeschi, Juve, e poi su, su, fino a Asensio del Real Madrid, e poi si sale, si sale, Chedira, Manolas, Strootman, Salah del Liverpool, Douglas Costa della Juve, quadrato della Juve, Edwin Dzeko, Pjanic, Rakitic, su, su, Marchesi 85, Navas 86, Barzaghi 86, Nainggolan 87, Piquet, Di Bala, Marsella, Aguero, fino ai top del top, dai 90 in su, Bale, che non in squadra, Suarez, Messi e Cristiano Ronaldo, tutte e due a 94. La gente Champions normale, fra virgolette, ha pure 28 giocatori argento, anche se qui dice 52-28, 71-3, non capisco bene il perché, andiamo un attimo a vedere, ecco, 125 giocatori, mi sa che quel numero era sbagliato, perché infatti da 79 in giù ce ne sono altri 30, 30, però non sono tantissimi, 79, 78, 76, pochissimi 75, under della Roma, stiamo parlando comunque delle squadre che giocano ai quarti di finale, però ecco, queste percentuali mi risultano un po' strane, chissà, forse questo è il numero dei giocatori, ma in realtà la percentuale di prenderla è molto più alta e questa cosa non è molto bella, no, per nulla. Comunque, facciamo il nostro giro di agente, con i consigli che mi arrivano, proviamo a vedere di non prendere un argento come al solito, ecco questa bella spasa di argenti, ci premiamo quando c'è, vediamo un po', oh, finalmente una palla d'oro, vediamo un po' chi ci capita, chi è, chi è, chi è, vediamo, non lo riconosco ancora, Varane del Real Madrid, via, 83, un bel difensore 83, finalmente una bella pescata e lo mettiamo subito tra i membri del MyClub. E questo quindi è l'agente speciale, l'agente Champions, l'agente Champions Stars Gold che potete però girare solo una volta al giorno. Andiamo avanti, se no mi si dice, come in un commento, che sono troppo prolisso, quindi cerco di sbrigarmi assolutamente. Ecco gli allenatori, Ballada, Manchester Blue, e quindi stiamo parlando di Guardiola, Klopp, Liverpool con tanto di foto, Sodi, 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 sarebbe Allegri, mi fanno troppo ridere i nomi inventati, Grignon sarebbe Zidane, Valverde è Valverde per fortuna, Contini è di Francesco, tedesco è non so, l'allenatore lo Schalke 04 non lo conosco, Paris, chissà se è Montella o qualcun altro, non mi ricordo, e poi scendiamo, SERP, Verimires, Batson e tanti altri. Allenatori, una buona scelta. Le co-op, le co-op sono interessanti perché abbiamo il co-op appunto per la challenge online, ogni tanto c'è questa challenge, capita raramente, però è interessante, non c'è nulla da dire. Eccola qui, co-op challenge, dal 29 marzo al 5 aprile, squad bonus, se avete giocatori nella vostra squadra, non di tutte e tre, che fanno parte dei giocatori obiettivo dell'agente, ci sarà un bonus, 11 giocatori elegibili, bonus GP 150%, un oggetto allenatore speciale per uno. Ovviamente il premio è un giro di agente, però appunto, come abbiamo visto, con questi bonus interessanti. Però c'è anche una challenge normale, di cui Konami non ha parlato nei comunicati ufficiali, le andiamo subito a vedere, uno contro uno. Beh, questo allora è semplice, riceverai Special Legend UEFA Champions League dopo la vostra prima vittoria. Quindi due challenge online, una co-op e una normale. Quindi veramente interessante questa settimana. Qui c'è veramente da sbancare la gente fra un giro di qua e un giro di là. Sono già due giri. C'è l'agente speciale, uno al giorno, interessantissimo, con solo palle d'oro e palle argento. Vediamo se c'è anche la controcom. Penso proprio di sì, ma andiamo a scoprire subito. Ce ne sono addirittura due, vediamo, vediamo, vediamo. Uno controcom, tutte e tre le partite. E, eh, questa addirittura vincete un giro di agente gold. Molto interessante, molto interessante. L'altra challenge sarà l'agente normale. Vediamo se mi sbaglio o meno. Vinci tutte e tre le partite. Si vince l'agente Champions normale. Ragazzi, oggi un bel 9 Konami se lo merita, perché ci sono tante, tante cose interessanti. E poi finalmente ho preso una palla d'oro dopo mille d'argento. A parte gli scherzi si merita 9. Questo aggiornamento molto interessante. Pochi giocatori e tutti particolarmente interessanti. Cos'altro dirvi? Vi dico che oggi, alle 17, si vince Far Cry 5 per PlayStation 4 con il TG Tech. Ma alle 16 su italiatopgames.it potete scoprire in anticipo la domanda che si farà in diretta, durante la diretta di Simpli Radio. E vi faccio gli auguri di buona Pasqua. Che siate credenti o meno. È una festa un po' per tutti. Buona Pasqua. Il giorno prima, il sabato, c'è una giornata di campionato. Finalmente, dopo la lunga pausa. Io la pausa per le nazionali non la sopporto. Non so voi, fatemi sapere cosa ne pensate. Ancora auguri. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo su italiatopgames.it, sul nostro canale YouTube, sul nostro sito, quando volete voi. Ciao e alla prossima.